Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered or no, man, I still go. Salve a tutti e benvenuti in questo video di Top Farmer. Oggi parliamo del confronto tra due trattori, Fendt 314 Vario vs Class Arion 460. Spero che 6 piaccia il video. In tal caso mettete un mi piace e commentate con il trattore più forte. Se avete in mente delle sfide da proporre scrivetelo nei commenti. Iscrivetevi e supportate in ogni modo il canale. Vi ringrazio. I hope you can still go. I never ran sitting on, man, I still go. Go, 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 go Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti